Mi chiamo Alessandro Zangrini, consigliere per il Laboratorio Civico di Deci. Viviamo in un territorio ormai abbandonato, con un'entroterra che non vede più la politica da anni e anche le zone turistiche ormai non attirano più nessuno. Noi veniamo da un impegno sociale, da un impegno di volontariato, di associazionismo e di impegno in prima persona. Questo impegno è sempre stato monco, perché non abbiamo potuto portarlo dentro le aule della politica, abbiamo sempre provato a fare il nostro meglio al di fuori. Abbiamo capito che certi strumenti non sono solo un surplus, ma sono necessari, fanno parte della democrazia e vogliamo poterne avere atto, poterne farne parte per migliorare tutto il territorio. La politica ha provato in questi anni a fare quello che voleva fare e non c'è riuscita nei cittadini, ma c'è riuscita unicamente nel proprio interesse. Noi vogliamo puntare a ristabilire un'amministrazione trasparente, a liberare dalla malavita, dal malaffare questo territorio, soprattutto in quelle zone in cui la criminalità non è più vista in questo modo, ma è vista come normalità. Non si può tollerare la criminalità come una normalità di un territorio, come una connotazione di un territorio, ma il territorio deve essere unicamente dei cittadini che decidono, scelgono ed insieme come una comunità elaborano il percorso di questo spazio che insieme vivremo. Pensate di chiedere la partecipazione, la collaborazione della cittadinanza una volta al municipio? I nostri progetti sono per un'aggiunta itinerante, per un municipio aperto, per realizzare potere le consulte che erano state aperte, ma che sono state migliorate per aggravanti del tempo. Quindi i cittadini diventano parte attiva. Aumentare la trasparenza e l'accessibilità dei dati nel territorio? Sappiamo che tanti cittadini hanno provato a sapere cosa accadeva nel territorio, ma gli è stato negato questo diritto. Per noi i diritti non possono essere negati e la trasparenza è uno di questi.